Quasi un anno fa ho recensito l'ultimo tablet altro consumo in commercio che fosse un fatter era chiaro, però probabilmente è uno dei migliori che mi siano capitati tra le mani per costare solo 2 euro Purtroppo è morto, crepato, steso quindi ho provato a ripararlo e questo è quello che è successo Ho scaricato sto programma, no? che si chiama Dr. Phone che già era una versione di prova quindi secondo me appena ti pia sui file te li cripta e te li vende per 118 euro che in teoria dovrebbe farti recuperare le robe però guardate come recupero da telefono rotto già che potete scegliere ste robe e non tutto non capisco se io voglio tutto il contenuto vabbè lasciamo perdere uno fa avvio e deve scegliere schermo nero o schermo rotto perché era deceduto per forza e qui supporta solo pochissimi telefoni e sono tutti cazzo di Samsung Note 4 Edge Note 8.0 che in teoria è il tablet non il Note 8 quindi che cos'è S4, S5 neanche l'S7 vabbè io sono d'accordo col criptare i miei file ok in realtà già conoscete queste cose qui questo qui era nel primo unboxing dei pacchi cinesi e questo qui vabbè è il tablet altro consumo e ora proveremo ad aprirlo vediamo se funziona non ha alcuna vite no? quindi bisogna proprio andarsi di forza oppure smarmizzarlo allora cerchiamo il punto debole l'ho un po' rotto eh l'ho un po' rotto allora adesso usiamo questo qui che è lo scrostino 11000 e apriamo tutto il bordo siamo a buonissimo punto facciamo la parte di qua sperando che non si richiuda tutto eccolo qua allora questo è il tablet altro consumo al suo interno ora vi mostro le parti principali questa è la batteria che ha fuso la cover posteriore vedete si vede molto bene la bogna qui questi qui sono i presunti cavi che si dovevano essere rotti invece non si sono rotti qua è lo speaker in teoria perché è qui è stranamente grosso perché fa meno casino di un peto silenzioso qui abbiamo il ritardo procedurale e poi cosa abbiamo? vabbè il lettore di schede e varie altre cose in teoria come vedete qui ho censurato la fotocamera perché non lo so penso che questo tablet abbia meno privacy comunque non sono riuscito a farci il granché a dire il vero quando era in vita allora adesso proveremo a staccare e riattaccare la batteria io non so che altro a me sembra che i collegamenti qui vadano alla grande a dire il vero quindi vado a prendere il taglierino sempre dei cinesi ok ha perso completamente la sua molleggiatura ma dovrebbe andare ed ecco qua il chirurgo di tablet cinesi non ho capito cos'è ma la smettete di mettere scotch brutti cinesi ma di che cazzo è fatto? proviamo a scrostarlo dall'altra parte e figurati se si scrosta oh l'ho completamente strappato io non lo so che cosa ho rotto quello che vi puntavo io però è la batteria che adesso bisogna starci attenti perché se comincia io me la squaglio come una lepre cioè non mi vedete più io ve lo dico si può staccarla, dissaldarla, farmi qualcosa di bruttissimo in realtà se vedete la batteria non ha subito danni credo perché si è bruciacchiato qui però qui come vedete qui è qui non è sulla batteria qui che cosa c'è di bruciato? un cazzo di nulla va bene abbiamo rinunciato a questa parte sotto non andrà più vediamo se va al tablet allora qui ho la mia banda di caricatori malvagi quick charge occhio fai qualcosa niente proviamo ad accenderlo con i tasti di accensione non lo so che schifo ma dai ma dai così si fa chiudere una cover signori miei mi sa che questo tablet è fuori fuoco andato perché essenzialmente è un water linux che fare quindi di questa cosa? proviamo una mossa segreta finale che è detta reset che è qua sopra qua quindi adesso io provo questo è troppo grande però io foro così lo forzo ecco qua proviamo a tenerlo premuto cazzo cazzo c'ho il dito sulla batteria boh facciamo così riproviamo da connesso ma figurati se fa qualcosa e se provassimo a staccare la batteria del tutto uno e due ho paura inclinare in sta mania magari la lasciamo qua dai non è che sto cavo ci arriva qui qua no eh dai cazzo vai nulla ci servono i tasti vai buona guarda com'è impolverato guarda non va che volete che vi dica non si può dire che non ci abbia provato poi io sono umano ho i miei cazzo limiti e i miei metodi con la quale ho lasciato i filetti fuori